Ciao ragazzi, in questo video proviamo a riassumere le cose più importanti da sapere su Torquato Tasso. Quindi vediamo un po' della vita, il suo capolavoro che è la Gerusalemme liberata con la trama e poi in quest'altra slide diciamo un po' di cose in più sul contesto storico, i temi, lo stile, il linguaggio e il confronto con Ariosto. Torquato Tasso nacque a Sorrento in provincia di Napoli nel 1544. Rimasto orfano di madre seguì il padre Bernardo anche egli letterato presso varie corti. Compie i suoi studi tra Urbino, Venezia, Padova e dal 1565 visse a Ferrara presso la corte degli Estensi, la stessa di Ludovico Ariosto. Ed è proprio qui che scrive il suo capolavoro, la Gerusalemme liberata tra il 1565 e il 1575. Appena letta il duca Alfonso II d'Este ne rimane molto entusiasta e vorrebbe subito pubblicare l'opera. Ma in quell'anno Tasso inizia anche a soffrire di problemi mentali, soprattutto pensieri persecutori, e nutre forti dubbi sulla sua opera, che a suo dire non rispetta i principi della controriforma. Infatti questi sono gli anni del concilio di Trento della controriforma, ovvero della risposta della Chiesa Cattolica alla riforma protestante di Martino Lutero. E quindi vi è una costante e dura lotta alle eresie, all'affermazione della fede cattolica. Sono gli anni dell'indice dei libri proibiti, cioè una lista di libri proibiti dalla Chiesa e dal Tribunale dell'Inquisizione. Tasso allora viene allontanato dalla corte degli Estensi e vi fece ritorno quattro anni dopo. Ma in seguito all'ennesima crisi di ira e di follia fu rinchiuso in un ospedale psichiatrico, l'ospedale Sant'Anna, dove vi rimase per ben sette anni. Durante questa permanenza nell'ospedale psichiatrico, a sua insaputa nel 1581 fu pubblicata La Gerusalemme Liberata. Però Tasso aveva già iniziato a riscrivere l'opera, proprio perché temeva fortemente che non fosse in linea con i dettami della controriforma. E l'opera successiva verrà pubblicata con il nome di Gerusalemme conquistata, però questa avrà molto meno successo rispetto alla Gerusalemme Liberata del 1581. Dopo la liberazione, Tasso continuerà a vagare per l'Italia e morirà a Roma nel 1595. La Gerusalemme Liberata è un poema epico cavallerisco, ma lo possiamo anche definire come eroico cristiano, proprio perché uno dei temi principali è l'eroismo ma in funzione della religione, della fede cristiana. L'opera si compone di venti canti in ottave, cioè strofe da otto versi ciascuna. I versi sono in decasillabi, cioè ogni verso è formato da undici sillabe e le rime sono alternate con lo schema AB, AB, AB e poi gli ultimi due in rima baciata CC, quindi esattamente come in Ariosto, nell'opera dell'Orlando Furioso. L'ambientazione storica dell'opera è un fatto realmente accaduto, ovvero quello della prima crociata, indetta da Papa Urbano II e capitanata da Goffredo di Buglione. I crociati partirono nel 1095 e raggiunsero Gerusalemme, che era stata conquistata e occupata dai turchi, quindi musulmani, e si concluderà con la vittoria dei cristiani nel 1099. Quindi l'opera narra le vicende della guerra santa tra cristiani e musulmani per la conquista di Gerusalemme. Tra i guerrieri cristiani più valorosi ricordiamo sicuramente Goffredo di Buglione, ma anche Rinaldo e Tancredi. Tra i musulmani invece ricordiamo il re di Gerusalemme che è Aladino, poi c'è Argante che è uno dei guerrieri più forti e valorosi dei musulmani, poi abbiamo Clorinda che è una valorosissima guerriera musulmana e infine la maga Armida. Vediamo la trama. Le vicende partono dall'ultimo anno di guerra. L'arcangelo Gabriele giunge sul campo di battaglia per risortare i cristiani, infiammandoli di ardore religioso, per riprendere e continuare la battaglia. Plutone, re degli inferi, invece è dalla parte dei musulmani, quindi invia la bellissima maga Armida che riesce a sedurre e far allontanare dall'esercito cristiano i guerrieri più valorosi, tra cui anche Rinaldo. La maga poi, quando vedrà Rinaldo, se ne innamorerà. Tancredi è innamorato e ricambiato da Clorinda, ma c'è anche un'altra donna innamorata di Tancredi, ed è Erminia. Erminia, per attirare le attenzioni di Tancredi, indossa l'armatura di Clorinda, però quando vede l'esercito cristiano si spaventa e ripara in un campo di pastori. Credendo che fosse Clorinda, allora Tancredi la rincorre, però verrà catturato dalla maga, ma grazie a Rinaldo riuscirà a fuggire dal castello nelle isole fortunate, insieme ad altri guerrieri cristiani. Rinaldo però verrà di nuovo fatto prigioniero dalla maga. Nel frattempo i cristiani hanno costruito una torre mobile per dare l'attacco decisivo e oltrepassare le mura difensive della città. Però durante la notte Clorinda e Argante di nascosto riescono a incendiare la torre di legno. Argante riesce a tornare e a ripararsi dentro le mura della città, però Clorinda si attarda e viene raggiunta da Tancredi, che non la riconosce perché Clorinda sta indossando un'armatura diversa dal solito. I due si sfidano a duello, combattono tutta la notte e alla fine Tancredi le dà il colpo fatale. A quel punto Clorinda chiede di essere battezzata, così Tancredi le toglie l'elmo per bagnarle la fronte con l'acqua e solo a quel punto si rende conto che ha ucciso la donna che amava. A questo punto i cristiani si trovano in difficoltà, devono costruire una nuova torre mobile e serve il legno della selva della foresta di Saron, che però è circondata da un incantesimo e soltanto Rinaldo potrebbe riuscire a spezzare questo incantesimo. Il problema è che Rinaldo non c'è perché è ancora prigioniero della maga Armida, così Goffredo manda una spedizione per liberarlo. Nel frattempo Tancredi ucciderà in duello Argante, rimarrà però ferito ma verrà salvato da Erminia. Alla fine Rinaldo verrà liberato e guiderà i cristiani alla vittoria finale. Vediamo un po' di cose in più partendo dal contesto storico. Abbiamo detto che questi sono gli anni della controriforma, per cui Tasso cerca di rispettare fedelmente tutti i principi e Goffredo di Buione è sicuramente il personaggio che meglio rispetta gli ideali della controriforma. Ha una fede incrollabile in Dio, non vacilla mai, non cede mai alle tentazioni d'amore e rimane sempre ligio al proprio dovere. Ma questi sono anche gli anni in cui i turchi ottomani si stavano espandendo in Europa e quindi lo spettro di questi turchi, dello scontro tra cristiani e musulmani, era un tema molto vivo all'epoca. Infatti nel 1571 c'era stata anche la battaglia di Lepanto, in cui i turchi ottomani erano stati sconfitti dalla Lega Santa, composta da Spagna, Venezia e Genova. E infine vediamo i temi principali dell'opera e facciamo anche un piccolo confronto con Ariosto. Essendo un poema cavalleresco ovviamente l'eroismo dei cavalieri in battaglia è sicuramente uno dei temi principali. Tuttavia in quest'opera è centrale anche la fede cristiana, gli aspetti religiosi. Abbiamo detto che è l'età della controriforma, quindi un'epoca molto diversa rispetto al primo Cinquecento in cui gli ideali rinascimentali erano più forti, più liberi, in cui l'uomo prima era al centro di tutto. Qui invece centrale è la fede. Come in Ariosto anche qui è presente l'elemento magico e fantastico, però sempre secondo la visione della religione cristiana e si rifà soprattutto alla lotta tra il bene e il male. Mentre in Ariosto l'elemento magico era pura fantasia, l'ippogrifo, maghi, giganti. Anche nell'opera di Tasso sono presenti l'amore, le passioni, i sentimenti, pensate ad esempio Clorinda e Tancredi. Però tutto qui è tormentato, è doloroso, è travagliato, tutto è destinato a finire. In Ariosto invece l'amore era uno dei temi centrali, era la vera spinta nelle vicende dei personaggi. Qui invece il tema centrale è sempre la fede, anzi l'amore, le passioni sono viste come qualcosa di negativo che distraggono dalla missione da compiere, dal proprio dovere. In Tasso poi è importante la finalità dell'opera e lui cerca il giusto equilibrio tra una finalità edonistica e educativa. Cioè intende sia dilettare, divertire, ma anche insegnare, educare secondo i principi religiosi della controriforma. Pensate ad esempio a quello che abbiamo detto su Goffredo di Buglione, che è il modello perfetto a cui ispirarsi. La trama in Tasso è molto più lineare ed è sempre centrata sul tema principale della guerra santa. Poi Tasso segue anche lo schema della tragedia classica, per cui l'opera si può dividere in cinque parti che corrispondono ai cinque atti descritti da Aristotele. In Ariosto invece la trama era molto più complessa, articolata, con decine e decine di vicende e di personaggi che si intrecciano e si faceva anche fatica a capire chi erano i veri personaggi principali. Anche nella Gerusalemme liberata abbiamo diversi personaggi e diverse vicende anche amorose, però queste servono appunto a dilettare, mentre rimane sempre centrale il tema religioso. E infine lo stile e il linguaggio. Capite bene, dopo tutte le cose che abbiamo detto che lo stile di Tasso è molto più solenne e il linguaggio è più letterato, difficile, lontano dal parlato, proprio perché si rivolge a un pubblico nell'epoca della controriforma, mentre Ariosto è molto più libero e adotta uno stile ironico con un linguaggio più semplice e leggero.